Ciao ragazze e bentornate nel secondo allenamento della nostra booty week oggi l'unico attrezzo che ci servirà sarà una sedia o un plinto come il mio caso quindi diciamo semplicemente un appoggio ma prima se non l'hai ancora fatto mi raccomando iscriviti al nostro canale youtube e soprattutto segui tutta la booty week avrai alla fine un regalo ma ora iniziamo il nostro allenamento di oggi è composto da 4 esercizi ogni esercizio durerà 30 secondi e avremo 10 secondi di recupero tra un esercizio e l'altro per un totale di 3 round quindi se siete pronte iniziamo se non l'avete ancora fatto vi ricordo che il cream board trainer insieme a Valentina Leva e Francesca Conti cioè io ha scritto due guide una sul pitch workout quindi come allenare al meglio i glutei e una sugli inestetismi della cellulite con annesso anche una parte relativa alla nutrizione quindi se non l'hai ancora fatto e non l'hai ancora acquistata contattaci per saperne di più ok siamo pronte a partire il primo esercizio che faremo è lo squat proseguiremo poi con il lounge chair jump e infine prone leg raise partiamo due uno via con lo squat i piedi alla larghezza delle spalle scendo inspiro salgo butto fuori in ex in ex ancora in ex molto bene tenere eh ognuno ha il suo ritmo non dovete andare per forza al mio e subito pronte per il lounge stop ok 10 secondi di recupero intanto ci prepariamo per il lounge in avanti in modo alternato eh ok vediamo prima la destra e poi la sinistra facciamo un bel passo eh il ginocchio sfiora per terra non si appoggia per ritornare alla posizione eretta spingo con la gamba in avanti il peso è sempre sul tallone avanti forza 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 ok 10 secondi intanto ci prepariamo per il chair jump ci sediamo sulla sedia sul box e da qui faremo un salto verso l'alto andiamo spingo bene scendo appoggio e spingo appoggio ok non stiamoci troppo eh sedute salto butto fuori ok forza 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 butto fuori quando salto ok tenere eh due uno ok mi metto a terra mani sotto al mento alzo solo le gambe stacco le gambe da terra e ritorno piedi a punta a punta o a ballerina ok forza eh tenere tenere butto fuori quando salgo dai 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 non si molla ok ok dieci secondi intanto mi rialzo e subito pronte per lo squat due uno andiamo scendo bene salgo in ex forza eh butto fuori quando salgo ok dai tenere eh se avete un po' di fiatone è normale non vi preoccupate due uno ok lounge dici secondi potete tenere le mani sui fianchi o mani libere due uno andiamo a spingere bene eh il piede che è avanti ci permette di ritornare nella posizione retta dai 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 non si molla eh forza 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 in ex in ex oh sky molto bene ci prepariamo per il shake jump quindi mi accomodo sulla sedia sul box su dove volete e andiamo salgo butto fuori mi appoggio meno siamo appoggiate meglio è in ex in ex ancora in ex in ex dai tenere due uno ok vado a terra front leg raise scendo e andiamo salgono solo i piedi e le gambe butto fuori quando salgo e torno e torno ancora ancora torno dai 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 non si molla non si molla tenere due uno ok dieci secondi e si riparte per il terzo e ultimo giro due uno vai 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 la scosta butto fuori quando salgo dai non si molla eh tenere 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 dai che l'ultimo giro butto quando salgo ognuno ognuno ha il proprio ritmo ok bravissime dai che non si molla lounge fino avanti due uno andiamo dai 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 tenere forza 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 butto fuori secondo salgo in ex dai 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 cerchiamo di tenere un ritmo preciso molto bene ok ci prepariamo per il salto mi raccomando ognuno ha il proprio passo due uno ex butto fuori concentrate non fermatevi se le gambe bruciano vuol dire che funziona forza eh determinazione energia costanza molto bene ultimo esercizio ci mettiamo a pancia in giù mani sotto al mento e andiamo piedi a punta butto fuori quando salgo dai 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 forza 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 ok molto bene ragazzi se siete arrivate fino alla fine siete state bravissime e per oggi quindi abbiamo finito noi ci vediamo domani con il terzo giorno della booty week e quindi il terzo giorno d'allenamento ti ricordo di mettere un like di commentare di iscrivervi al nostro canale youtube noi ci vediamo domani ti aspetto qui ciao morta ciao